bentornato gutier bentornata ora andiamo a vedere una cosa un po particolare di windows 10 ossia la possibilità di tornare indietro fare un po il gambero scusa la battutaccia ma giusto per farti capire cosa intendo ossia la possibilità di tornare ad una versione precedente di windows 10 se dopo aver avviato installato windows 10 non ti relazioni con questo sistema operativo o ti si presentano dei problemi infatti in questo caso hai la possibilità di tornare o windows 7 o a windows 8.1 entro un mese da quando hai eseguito l'aggiornamento con dei semplici click e senza perdere i due dati questo premesso che tu abbia un sistema operativo genuino e attivato qui nello screenshot supponiamo di essere partiti da windows 8.1 e aver aggiornato a windows 10 se esegui l'aggiornamento mantenendo i file necessari ossia non eseguendo l'aggiornamento come installazione pulita windows 10 manterrà per un mese la copia dei file della vecchia installazione per poter consentire di tornare al vecchio sistema operativo con facilità quindi dopo 30 giorni questi file verranno rimossi automaticamente se passerà un mese oppure se hai eseguito l'aggiornamento a 10 senza mantenere nulla come fosse un'installazione pulita potrai sempre tornare alla versione precedente ma o attingendo alla partizione di ripristino creata da te o da al costruttore oppure utilizzando il dvd o la pad drive di installazione e reinserendo però il product key in tuo possesso del vecchio sistema operativo prima di iniziare comunque ricordati che credo sarà inevitabile passare a questo sistema operativo inoltre esegui per scrupolo una copia di backup dei tuoi dati vitali come si esegue questo ritorno all'antico una serie di click ti porterà ad avviare il processo automaticamente a cui tu dovrai soltanto porre attenzione che tutto fili liscio regati sul pulsante estate clicca con il tasto sinistro del mouse in questa zona troverai il pulsante impostazioni e cliccaci pure sopra ora nella nuova schermata clicca sul pulsante aggiornamento e sicurezza di qui regati nella sottosezione con scritto ripristino cliccaci sopra e troverai una serie di pulsanti in particolar modo quello che ci permette di tornare al vecchio sistema operativo nel ben mezzo troverai appunto o torna a windows 7 oppure 7 naturalmente e subito sotto il pulsante per iniziare clicca su quest'ultimo pulsante inizieranno i preparativi in maniera automatica prima dell'avvio del ripristino la microsoft ti somministerà un sondaggio sui motivi che ti stanno spingendo a tornare ad una versione precedente quindi fornisci un feedback con segno di spunta e trascrivi eventualmente un messaggio dopodiché clicca su avanti nella schermata successiva ti verrà chiesto se eseguire una ricerca della disponibilità di aggiornamenti per il sistema operativo puoi tranquillamente in questo caso cliccare su no ti verranno mostrate alcune note da sapere e dopo averle lette clicca su avanti ancora un paio di volte infine cliccando sul pulsante torna a windows 8.1 oppure 7 si avviera il downgrade in automatico il sistema si riavviera e procederà a ripristino della versione precedente di windows alcune schermate ti notificheranno del tentativo di ripristino e l'esecuzione dello stesso della versione precedente di windows segui che tutto fili liscio nel giro di qualche decina di minuti avrai di nuovo il desktop del vecchio sistema operativo dalla sezione sistema del pannello di controllo assicura di che il vecchio sistema operativo sia attivato infine una chicca per mantenere per un tempo indefinito i file che ti consentono di tornare alla versione precedente evitando la loro cancellazione automatica devi rinominare tre elementi gli elementi da rinominare sono nella cartella c windows old windows ws e windows bt sono cartelle nascoste per cui dovrai portarle in visione attivando l'opzione per visualizzare cartelle file e unità nascoste nella sezione visualizzazioni di opzione esplora file quindi dopo aver posto in visione le cartelle e i file nascosti puoi scegliere un qualsiasi nome per i tre precedenti elementi o alterare semplicemente le estensioni magari aggiungendo una lettera o un numero un qualsiasi giorno che deciderai di pristinare il sistema operativo alla versione precedente dovrai semplicemente rinominare come in origine questi tre elementi e troverai il pulsante per riavviare la procedura come appena spiegato questo per evitare che dopo 30 giorni vengano rimossi questi tre elementi e tu non possa tornare al vecchio sistema operativo con semplicità bene guter nella zona pratica andiamo a vedere come ripristinare ad una precedente versione di windows clicca col pulsante sinistro sul pulsante start individua la scritta impostazioni e cliccaci sopra dopo qualche secondo si aprirà la sezione appunto impostazioni ecco la in visione massimizziamo dal pulsante relativo ora individua la sezione aggiornamento e sicurezza e cliccaci sopra in questa sezione individua la sottosezione ripristino e cliccaci sopra troverai una serie di pulsanti e quello che più ci interessa torna a windows 8.1 clicca sul pulsante per iniziare alternativamente puoi trovare torna a windows 7 naturalmente in automatico si avvierà la procedura di ripristino a windows 8.1 i preparativi dureranno qualche secondo dopo ti troverai davanti un sondaggio con un segno di spunta seleziona la voce che ti interessa e magari fornisci un feedback scritto dopodiché clicca su avanti ti verrà chiesto se vuoi verificare la disponibilità di aggiornamenti ma clicca su non ora alcune note che devi sapere prima del ripristino dopo averle lette clicca su avanti un altro paio di informazioni da sapere dopo averle lette clicca sempre su avanti in quest'ultima schermata puoi cliccare semplicemente sul pulsante torna a windows 8.1 da questo momento in poi dovrai semplicemente seguire che tutto fili liscio il computer si avvierà e inizierà il ripristino a windows 8.1 a questo punto il processo tenterà di ripristinare il sistema operativo e verosimilmente ci riuscirà dopo qualche decina di minuti segui in passibile eventuali altri avvi fino alla schermata di benvenuto per accedere al desktop del vecchio sistema operativo una volta che si è presentato il desktop del sistema operativo precedente individua la sezione sistema del pannello di controllo o dal menu start e vai a verificare che il sistema operativo appena ripristinato sia ancora attivato questo a condizioni che il computer abbia un accesso ad internet bene nella prossima lezione vedremo come si presenta windows 10 inizieremo quindi ad utilizzarlo ora un forte saluto ciao a presto da gare dalla prossima